direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 15 maggio il jackpot ha raggiunto la cifra di 152 milioni 516 mila 120 euro il più alto d'europa e 90 serie numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo di amor al via l'estrazione del concorso numero 58 inizia il mescolamento automatico delle sfere siamo per scoprire se i numeri vincenti più numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 15 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere secondo numero estratto è il numero 59 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 36 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 60 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 49 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sostina vincente il sesto numero estratto è il numero 62 dopo questi numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai 5 numeri dell'assassina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 77 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 15 59 36 60 49 62 il numero jolly è il numero 77 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super 1 all'8 fino a 100 volte premi anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti il numero superstar di questa sera è il numero 20 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 58 in ordine crescente 15 36 49 59 60 62 numero jolly 77 superstar 20 l'estrazione di oggi sabato 15 maggio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci vediamo fra poco per scoprire se il jack pote di oltre 152 milioni 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 58 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super analotto assegna 454 mila 56 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 152 milioni 500 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 153 milioni 800 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 83 mila 924 euro ciascuno i 4 sono 538 e vincono 478 euro ciascuno i 3 sono 22 mila 46 e vincono 35 euro ciascuno i 2 sono 376 mila 405 e vincono 6 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 17 mila 959 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 4 e vincono 47 mila 883 euro ciascuno i 3 stella sono 114 e vincono 3 mila 507 euro ciascuno 100 euro e vanno i 1922 due stella 10 euro e 14 mila 498 uno stella e 5 euro e 38 mila 526 zero stella vi ringrazio per essere stati con noi su per una lotto vi d'appuntamento a martedì 18 maggio e giocheremo per un jackpot di 153 milioni 800 mila euro arrivederci